Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il presidente del Burkina Faso, Rock Mark Christian Caboret. Nel corso dei cordiali colloqui, riferisce una nota della Sala Stampa Vaticana, sono state rilevate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Burkina Faso, sottolineando tra l'altro l'importante contributo che la Chiesa offre nel campo educativo e sanitario. In questo quadro è stato espresso l'auspicio che i rapporti bilaterali possono essere consolidati grazie anche agli strumenti giuridici previsti dal diritto internazionale. Ci si è soffermati poi sull'importanza della riconciliazione nazionale, il rispetto e la collaborazione tra i vari gruppi religiosi e il tema dei giovani e della loro occupazione. Infine non è mancato uno scambio di vedute su alcuni temi di interesse internazionale, con particolare riferimento alle attuali sfide che interessano la Regione.